Mamma mia, quanto sono bianco, quanto sono bianco EF, EF sta per GURF Sta per Grand Final La vita la vuole fare una grande fidanzata Invece vi dovete subire un altro Il problema è che se Emi e... Semi e Seler vincono, non puoi fare la Grand Final se devono giocare contro di noi a quel punto Aspetta, inquadra un attimo Pref 3, 2, 1, via! Bene, passiamo al game allora Vai, vai, passa al game Pref vuole per forza masterare questo Che è sta cosa? Che stiamo vedendo? Stiamo vedendo un match a caso Free play Ci abbiamo un sacco di tempo da perdere, noi Ah non è vero, ci abbiamo meno Ma tanto anch'io me ne devo andare da tipo nura, capito? Sto aspettando i doppi e non posso Ma che cazzo cambia a fare? Ma che cazzo cambia a fare? Per, per, cazzo Adesso Pref farà un po' di danni Poi tenterà un downeer connesso con un side B Ecco subito side B, vuole rubare Eccolo la Comunque io non capisco perché avevamo quattro ore per fare Eccolo Arriviamo sempre sotto sotto, non lo so Va a vedere, va a vedere se hanno finito il doppio Si Max Sim Vedi se Emi ha perso, ah che magari ha perso Magari ha perso E poi fa la Grand Final Ragazzi il pubblico si sta sospettendo Vogliono la Grand Final, vogliono tutti la Grand Final Guarda Non c'è più nessuno a seguirci ovviamente Abbiamo fatto notte C'è Rezzer che abbia che ha lasciato il computer acceso Non fa più in mente C'è Strama Strama Stra Drapt c'è Strama che ci segue Drapt C'è De qua, Deco ci ha seguito sempre C'è Strama C'è Strama che ci segue che A quanto pare ha detto Undrapt che è più forte di me Strama Ma dove Strama E' vero quello che hai detto Andrapt E' vero quello che hai detto Andrapt Rastrama dai C'è Pistoccato Pistoccato Sait B Sait B Fallo fallo fai side B dai fuori Dai fuori E ora non avrebbe teccato che c'erò io Ha vinto la squadra a blu però Dai raga fate giocare su max di una mirror che voi siete scarsi perchè perchè ditto villager oh e che stanno quelli a doppio a doppio che cazzo ma stanno giocando da un quarto di ora oh ma i doppi sono lunghi ho capito ma cazzo però li sappiamo giocare li metto stupido poi dov'è Magistrix che si occupava dell'office? non lo so penso che è andato a casa no no guarda Pref che coglione ma che fa? è fermo capito? papadaya Pref si è ridicolo torna su Yoshi bella jab però c'è jab grab vuole mettere l'albero? eh ovviamente dreppo è furbo ovviamente è furbo si va a fregare da se stesso no? fagli sta palla da bullying guarda Pref che pensa di poter fare i fail tipo perchè lui non lo può fare con questo personaggio si si smash a caso che schifo che schifo che schifo ma pochettate qualcosa che schifo guarda eh ce lo stai aspettando da quello che sta a fare i doppi facciamo prima la grand final comune ci mancano tipo 3-4 match dei doppi capito? quasi o me ne vado e perdo a tavolini bravo Pref e adesso ditto Yoshi immagino che cazzo di te dai? eh il ditto Yoshi è sempre bello da vedere più o meno 4-4 mi deve pure resettare capito quanto tempo dura infatti mentre ti resetta e poi ti batte mentre ti resetta e poi ti batte c'è il doppio della 3-2-1 via non lo fa resettare vabbè anche io me ne vado quindi non me ne frega DREPPO premi i tasti a caso dai ma che cosa fate? e poi lo sfutte capito? oh emi che avete fatto? e che cazzo? io dove andai? io dove andai? con noi andiamo a giocare eh vai si tendo di così? si accadde si accadde dai 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 io non ci credo questi qua vogliono fare per forza il freeplay il streaming e magari io vorrei giocare davvero la grand final e magari io vorrei giocare davvero la grand final qualche mese ma c'è ancora meglio c'è ancora la grand final eh qui ho i nostri che 동안 e penso sia meglio e perché se nooo No, no, ma io voglio giocare Sono questi coglioni Ma sono le sette a te Non ti fanno 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 Non ti fanno